Ciao ragazzi, sono Soleil e questo video durerà poco perché vi aspetto alle 6 in live con Giovanni. Allora, finisce Juventus-Benevento 0-1 e posso dire che oggi in campo hanno fatto tutti schifo. Posso dirlo tranquillamente, a parte forse Ronaldo che ha creato due o tre occasioni da soli, per il resto io non mi ricordo nessuno che abbia fatto una partita decente. Per me hanno fatto tutti veramente insufficienze piene, vabbè a parte Scesni ovviamente, cosa gli vuoi dire? Su quel gol lì, il gol regalato da Arturo, Scesni ci poteva fare poco, ha tentato di coprire lo specchio della porta come poteva, ma vabbè. Non me ne è piaciuto neanche uno, ve l'ho detto, a parte Ronaldo che appunto ha creato due o tre occasioni, chiesa che in teoria si era procurato il rigore, non so come non l'abbia fischiato, però vabbè, non mi attacco a questi episodi perché tanto comunque l'andazzo era quello oggi. Niente, anche quelli che di solito fanno meglio oggi li ho visti male, anche Danilo per esempio, Delict non l'ho visto bene. Danilo e Delict li ho visti parecchi sofferenti oggi, nonostante alla fine il Benevento abbia tirato in porta solo una volta che è stato appunto il gol. E vabbè, per il resto veramente non parlo individualmente perché appunto faremo le pagelli e io e Giovanni. Fatto sta ragazzi, adesso sì che è andato. Cioè, io sono una persona molto ottimista, quindi fino adesso avevo sempre detto che credevo ancora allo scudetto, adesso no. Non ci credo più perché adesso sono troppo, adesso siamo a pari partite con l'Inter e siamo a 10 punti. Quindi, metti caso per puro culo, vinci con il Napoli e vinci lo scontro diretto con l'Inter, tu sei comunque a meno 4 e non vedo come questa Juve possa vincerle tutte da qui alla fine e l'Inter perderne 2. Cioè, allora, l'Inter magari le può anche perdere 2 per perdere punti, però non è abbastanza. Cioè, noi non siamo in grado veramente quest'anno di fare, di lottare perché tante vittorie di fila non le faremo. Oggi abbiamo perso, vabbè, complimenti all'Inter per la vittoria dello scudetto. Io l'ho sempre detto, non ho mai pensato che il Milan potesse vincere lo scudetto e non lo penso neanche ora. Quindi, buona fortuna al Milan, ma non penso proprio che possa infastidire l'Inter. Per me il Milan alla fine lotterà per il quarto posto. E a questo punto, attenti noi, dobbiamo stare attenti perché il quarto posto non è poi così scontato. Niente ragazzi, noi ci vediamo appunto in live dopo e sempre fino alla fine forza Juve, quest'anno va così.